Ciao a tutti, cari amici di Sennò del Sagittario, eccoci qui, nuova prospettiva, video rinnovati mi avete chiesto in tanti, spero di portare avanti questa tipologia di filone, perché comunque per girare questi video ci vuole tempo, risorse, energie, comunque sia, visto che a molti di voi è piaciuto l'orosco mensile attraverso 12 video singoli, anche in questo caso per quanto riguarda l'orosco settimanale, da oggi, da questa settimana, vi proporrò i 12 video per ovviamente tutti i 12 segni zodiacali, siamo arrivati a voi del Sagittario per conoscere le previsioni dell'orosco per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 aprile 2022, se vi è lasciatemi un like, lasciatemi un commento, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, ricordo come sempre fino allo sveglimento, che queste sono energie generali, non possono valere per tutti, per quali ci sono i miei consulti privati, vi lascio qui sotto tutto nel box informazioni, benissimo incominciamo a pescare una carta dell'oracolo emotivo, degli oli essenziali, che è il mio mazzo oracolare, per conoscere le energie generali, ok, che dovete affrontare durante questa settimana, accanto poi metterò una carta dell'oracolo del Taroman, vediamo immediatamente qual è l'olio essenziale che vi accompagnerà durante questa settimana vediamo eh, ok amici del segno del sagittale, abbiamo l'olio di Petit Grain, eccolo qua, vediamo di accostarlo con la carta del mio oracolo segreti, qua sicuramente durante questa settimana dovrete assumervi le responsabilità delle vostre azioni e anche e soprattutto di quello che dite ma anche di quello che non dite, di quello che tenete, terrete segreto o nascosto, quindi per di tutto qua c'è proprio l'assunzione delle vostre responsabilità, un altro messaggio che vi invita a fare questa carta di Petit Grain è proprio quello di liberarvi dai condizionamenti, da liberarvi da catene vincolanti, ok, e cercare di focalizzarvi soprattutto sul presente, ok, e su quello che volete veramente da voi e volete comunque costruire giorno dopo giorno nella vostra vita, ok, quindi qua questi sono ovviamente i messaggi generali, ok, poi abbiamo la carta dei segreti quindi sì, potrebbe esserci appunto ripeto, il fatto di se non dite o dite determinate frasi dovete assumire poi le vostre responsabilità come se sol dire a vostro rischio o pericolo, oppure questa carta vi invita proprio a mantenere un segreto, a non spifferarlo ai 420, ok, mi raccomando, e queste sono le energie molto molto generali, potete ovviamente lavorare con quest'olio di Petit Grain, ok, che vi può comunque sia aiutare, ok, ma vediamo ora di pescare altre tre carte, e andiamo a capire meglio nei dettagli, ovviamente sono carte che serviscono alle varie sfere della vostra vita, vediamo una carta dell'oracolo del Tago Man, allora abbiamo la carta paura di ripetere gli stessi errori e schemi, quindi c'è qui appunto una paura da parte vostra di rivivere delle vecchie esperienze passate, quindi di rivivere proprio sulla vostra pelle, e anche di magari riaprire delle vecchie cicatrici emotive, c'è questa sorta proprio di paura, paura di magari rivedere una persona che vi ha fatto male, paura di rivivere la stessa esperienza del passato che in qualche caso vi ha ferito profondamente, ok, ma vediamo le altre due carte. Alcuni di voi sono ancora un po' troppo legati da una situazione del passato, comunque sia da un rapporto qualunque esso sia, lo state troppo idealizzando e questo non è per niente un bene, mi raccomando, attenzione, vediamo, abbiamo la carta del quattro di spade vicino al due di coppe, ma sicuramente qui ci saranno delle riflessioni molto profonde, ok, sul rapporto perché abbiamo il quattro di spade vicino al due di coppe, che ovviamente è l'emblema dei rapporti, ovviamente sia in amore ma anche da puntista di collaborazione, ok, quindi qua potrebbe essere proprio una pausa di riflessione da un rapporto, oppure avverto in voi una certa sorta proprio di immobilismo, di staticità, perché non riuscite a iniziare in alcuni casi un nuovo rapporto, non riuscite a esporvi agli altri, perché, ricordiamoci a questa carta, perché avete paura di ripercorrere la stessa strada, ovviamente in negativo, che avete vissuto già in passato, ok, quindi in alcuni casi una fetta di voi non riuscirà a esporsi, o comunque non riuscirà a iniziare una nuova fase da puntista emotivo, perché si trova appunto di fronte a questa situazione, o comunque alcuni di voi sono ancora troppo legati al passato, e quindi non riesce a vivere appieno le nuove esperienze, sia in termini di amore e amicizia, ma anche ovviamente di collaborazione lavorativa e professionale, ok? Quindi questo è un altro messaggio. Poi ovviamente non è detto che con questo due di coppe non riusciate a, diciamo, entrare in rapporto, in sintonia con altre persone, sia in amicizia che in amore, ma anche da puntista collaborativo. C'è comunque molta strada da fare prima di trovare quella persona che vi faccia di nuovo battere il cuore. Molto spesso l'avete di fronte, ma avete talmente le mani davanti ai vostri occhi che non riuscite a captare la situazione così come è davvero nella realtà, ok? Ma vediamo un'altra carta con l'oracolo dei pensieri, vediamo cosa vuole dirvi. Qua potrebbe esserci anche proprio una pausa di riflessione in un rapporto. Alcuni si sono resi conto che c'è qualcosa che non va in un rapporto di lavoro, in un rapporto appunto amoroso, di amicizia, ma anche da puntista ammiliare, e c'è una sorta proprio di pausa, di riflessione, per capire anche come affrontare nella migliore maniera possibile appunto gli eventi. sei stanco di combattere sempre per le stesse cose. Quindi molto probabilmente qui avete già vissuto diverse sfide, diverse traverte battaglie, avete questa figura che fa del pugilato, siete un po' stanchi, vi sentite un po' stressati, avete bisogno proprio di riposare, infatti abbiamo il 4 di spade che mi conferma questo proprio periodo di mobilità, periodo di pausa, di riflessione, dovete cercare di affrontare questa situazione, dovete cercare proprio di ritrovare la giusta carica e la giusta grinta, e solo dopo che vi siete diciamo svincolati da questa situazione, come diceva l'olio di petit grain, da questa situazione di condizionamento eccessivo, ok, in cui ripeto, magari state idealizzando troppo una o più persone, solo dopo riuscirete a appunto entrare in nuova fase della vostra vita, con nuovi rapporti, ovviamente più equilibrati, e senza la paura di ripetere gli stessi errori, o entrare nel cosiddetto circolo vizioso, ok? Quindi non è che dall'altra parte c'è sempre una persona che è pronta a puntarvi dietro contro, oppure è pronta a trattarvi di cacca, passatemi il termine, ci sono anche persone che davvero vogliono intraprendere un percorso di crescita con voi e assieme a voi, ok? Mi raccomando, ok? E questi caramici sono i messaggi per voi del Sagittario, ciao a tutti e alla prossima!